Castelseprio, Santa Maria Forisportas a Castelseprio. Prima di parlare di Santa Maria Forisportas, diciamo qualcosa riguardo a Castelseprio. Il territorio presenta insediamenti sin dall'epoca romana. Si chiama così perché originariamente era un castrum, seprium, sebrium, cioè era un luogo fortificato. E rimase un luogo fortificato per tantissimo tempo. Dobbiamo dire però che il maggiore fulgore di Castelseprio, che oggi si trova un po', lo potete intravedere anche da queste fotografie, un po' in mezzo ai boschi, appunto nella provincia di Varese, il massimo periodo di splendore fu quello Longobardo. Tant'è vero che Castelseprio e anche questa chiesa di Santa Maria Forisportas e i suoi fantastici affreschi, sono stati inseriti all'interno dei siti UNESCO dei Longobardi in Italia. Cioè rappresentano uno dei passaggi, delle testimonianze fondamentali della cultura Longobarda in Italia, come Cividale del Friuli e come tantissimi altri posti, Benevento, Spoleto. Ci sono delle testimonianze importanti. Ecco, nel centro, nel cuore di questo sito di Castelseprio, si trovava una chiesa, la chiesa di San Giovanni. Ecco, potete vedere quelli che sono i resti di questa chiesa di San Giovanni, si intravede una specie di abside, forse un fonte battesimale. E' possibile quindi visitare anche questa chiesa facendo questa passeggiata, questa gita che davvero ci immerge, anzitutto nel verde, come vediamo, ma anche nella storia e nel nostro passato. Qui la stessa chiesa di San Giovanni, ma vista da un'altra prospettiva. Dovete sapere che in questo sito archeologico comunque ci sono anche dei palazzi, dette così case, Casaforte per esempio è uno di questi palazzi, poi ce ne sono altri. Si trattava infatti di un sito caratterizzato da fortificazioni non continue, cioè potevano esserci per esempio dei tratti in cui c'erano semplicemente delle torri d'avvistamento che potevano servire comunque per appunto avvistare e quindi segnalare ad altri che erano in altre torri l'arrivo, magari la venuta di nemici. Ma non erano così continue, non era come dire, non so, un castelsepo, ci potremmo immaginare un castello. No, era effettivamente una specie di insediamento anche vasto sul cosiddetto pianalto, quindi una specie di alto piano che si trova in questa zona dove si costruirono edifici sia di carattere civile come palazzi, dicevamo, ma anche di carattere religioso. La fortuna di questo territorio fu che proprio nel periodo dei Longobardi, questi germanici, queste popolazioni germaniche, scelsero proprio questo luogo, il luogo di Castelseprio, come una specie di capoluogo di tutta una zona, una regione piuttosto vasta. Cioè Castelseprio era in una posizione strategica per cui era considerato, dicevamo, il capoluogo di una regione che andava addirittura dall'Alto Milanese fino al Ticino. Comprendeva quindi tutta quanta l'attuale provincia di Varese e anche territori di quelli che oggi come oggi sono province limitrofe e perfino territori del canton Ticino, quindi oltre confine per noi. La fortuna quindi era che c'era questo grande giudice, quindi un amministratore, apparteneva alle cosiddette giudicarie, quindi territori amministrati da un giudice che però aveva anche altre funzioni oltre quelle di sentenziare, funzioni di governo. Anche durante il periodo carolingio il sito di Castelseprio ebbe un'importanza notevole, anzi lo vedremo, proprio anche le testimonianze, insomma anche la Chiesa in buona sostanza di cui parleremo oggi, è la dimostrazione di questo splendore che si ebbe quindi nell'Alto Medioevo, cioè prima dell'anno 1000, prima dell'anno 1000 Castelseprio era un luogo veramente importante nella zona, nella regione. Per esempio era residenza di arcivescovi, ci sono testimonianze anche di arcivescovi che giungevano qua magari come una sorta di residenza estiva per fuggire dalla calura in pianura arrivavano qui per godere di maggiore frescura, così fa anche rima. Dopo l'anno 1000 Castelseprio continuò ad essere importante ancora per un certo periodo, questo è testimonato dal fatto che si costruirono per esempio anche altre chiese, altre chiese romane, che se non sbaglio sono una chiesa di San Paolo, quindi non più solamente chiese paleocristiane del periodo alto medievale come quella di cui parleremo fra poco, ma anche vere e proprie chiese romaniche. In particolar modo certi signori della zona del milanese, si chiamavano i della Torre, scelsero proprio Castelseprio come propria dimora importante. Quando ci fu una sorta di guerra civile tra le famiglie milanesi dei Della Torre e dei Visconti, i Visconti inseguirono i Della Torre e questi ultimi decisero di ricoverarsi proprio qui a Castelseprio, di tentare qui l'ultima difesa nei confronti contro i Visconti che avevano sempre prevaricato sui Della Torre. Quindi si fermarono qui e furono assediati dai Visconti e dalle truppe dei Visconti. Alla fine, siamo nel 1287, i Visconti ruppero l'assedio e quindi occuparono questo territorio e lo rasero al suolo. Il desiderio dei Visconti era quello di cancellare l'ultimo luogo in cui siano ricoverati i Della Torre, i Torriani, e per cancellare la loro memoria, quindi per una sorta di damnazio memoria dei Torriani, tutto questo sito viene distrutto, tranne gli edifici religiosi. Tutti gli edifici militari, assolutamente, ma anche quelli civili in generale, furono distrutti e rimasero solamente le chiese. Quindi il 1287 è già una sorta di parola fine, soprattutto sulla potenza di questo sito, di questo territorio. Dopodiché ci sarà, se vogliamo, una specie di lento declino. Questo lento declino arriverà al punto in cui persino questa chiesa, la chiesa di cui parleremo oggi, di Santa Maria Foris Portas, sarà un po' abbandonata. Beh, le altre chiese, abbiamo visto, sono effettivamente rimaste solo ed esclusivamente dei ruderi. Questa chiesa di Santa Maria Foris Portas era comunque piuttosto abbandonata, dobbiamo dire la verità. A un certo punto, per esempio, nei primi decenni del 1900, il cardinale Schuster la sconsacrò, cioè fece sì che non fosse più una chiesa in cui consacrare i sacramenti. E quindi il degrado di questa chiesa proseguì e sembrava senza fine. Fino al momento in cui, nel 1944, uno studioso, che era veramente grande conoscitore della zona, si accostò a questa chiesa, entrò con particolare attenzione e cura e riuscì a capire che sotto un intonaco, che era lì ormai anche da secoli, si nascondevano dei fantastici affreschi del periodo alto medievale. Comunque, è abbastanza discussa, diciamo così, la questione riguardo la datazione di questa chiesa. Infatti, per alcuni studiosi, si tratta davvero di una chiesa paleocristiana di secoli, addirittura tra il VII e l'VIII secolo, quindi fra il 600 e il 700. L'età di Giustiniano, effettivamente ci sono alcuni elementi che un po' rimandano anche alla cultura bizantina, ma non è sempre e non è tutto così. La seconda ipotesi, una datazione un po' più bassa, un po' più, tra virgolette, recente, quella più accreditata, è quella che parla di questa chiesa come una chiesa che è stata costruita, più o meno, tra il IX secolo e il X secolo, quindi fra l'Ottocento e il Novecento, in corrispondenza di quella che noi possiamo chiamare la rinascita, rinascenza artistico-culturale, macedone e anche carolingia, ovviamente. La cultura è pervasa da un fervore classicista, se parliamo di macedone, intendiamo ovviamente, una sorta quasi di riverbero dell'arte ellenistica. Anzi, questa è un po' la datazione definitiva, nel senso che quali sono gli elementi che ci portano a stabilire che questa chiesa sia stata costruita fra l'VIII e il IX secolo. Il confronto di questo ciclo lombardo con il mosaico absidale della chiesa di Santa Sofia a Costantinopoli. Poi, la forma di croce greca. E questa è una specie di testimonianza, dimostrazione che l'ideatore dell'architettura di questa chiesa ha una cultura orientale, trilobata, cioè con due absidi laterali grandi come un'altra abside centrale, come una specie di trifoglio, se noi la osservassimo dall'alto. C'è uno sviluppo, quindi, di quella che è la basilica romana. Vi ricordate, abbiamo visto la basilica di Santa Maria Maggiore, che è una pianta rettangolare, decisamente rettangolare. con influssi, invece, orientali, che vanno in un'altra direzione. L'influenza greca sta nella distorsione della pianta romana. La pianta romana vuole delle absidi laterali piccole, e invece qui le absidi laterali sono grandi, come l'abside centrale. Poi presenta un nartece. Lo vedete quel porticato d'ingresso che si vede nella fotografia qui in alto a sinistra, come la chiesa di Sant'Ambrogio, per esempio. E poi le aperture nel nartece, ad archi a tutto sesto, che poi furono murate. Insomma, tutti questi elementi ci fanno parlare di una struttura veramente originale di questa chiesa. Ogni abside a finestre, però, a sesto acuto, originariamente, però, erano a tutto sesto. Poi ci sono i contrafforti, che, in un certo senso, rafforzano la struttura, aiutando a scaricare correttamente il peso della parete muraria, che non sono di un periodo tardo-antico, ma sono, appunto, ancora, di questo periodo alto-medievale. Una chiesa alto-medievale. Il materiale è in mattone e in tonaco decorato, materiale in loco, è un po' la caratteristica, che poi sarà anche quella del romanico, l'utilizzo, insomma, del materiale che si può rinvenire nei dintorni. E poi c'è il marmo nell'intarsio del pavimento, uguale alle basiliche milanesi, che danno un aspetto sontuoso alla basilica. Una basilica, quindi, su una collina, su un'altura, in un'area che, come abbiamo detto, una certa storia, forse addirittura anche un'area che, sin dalla preistoria, doveva avere un'importanza nel luogo. E poi la datazione di cui abbiamo parlato e le contaminazioni e anche, in un certo senso, gli sfondi storici che rappresentano un po' il sottofondo, ecco, della costruzione di questa chiesa. Il periodo a Longobardo è quello carolingio. La chiesa si presenta esternamente con una rustica semplicità, preceduta da un atrio che noi abbiamo chiamato un'artece, un termine di derivazione orientale, il grande arco, ecco, e poi una navata rettangolare, un abside per ciascun lato, oltre quello di ingresso. Tre absidi uguali fra di loro. E questa è un po' l'architettura di questa chiesa. Eccola qui la pianta dall'alto. Potete vedere che questa chiesa ha una specie di pianta greca dove tutti i bracci hanno più o meno la stessa lunghezza. I bracci però sono costituiti di questi quattro bracci, della cosiddetta pianta greca. In realtà tre sono absidi e uno è l'arco del nartece d'ingresso. Ecco qui ancora una fotografia di questa chiesa così particolare ed è arrivato il momento finalmente di parlare del cuore di quello che è la nostra serata di oggi, cioè degli affreschi. Quegli affreschi che quello studioso aveva intravisto intorno al 1944 e che adesso sono visibili al visitatore e quindi si immerge per lo più quasi inconsapevole all'interno di un ciclo pittorico di un periodo veramente particolare perché non è il solito ciclo romanico, gotico. No, no. Stiamo parlando di realizzazioni artistiche che sono state fatte prima dell'anno 1000. Anzi, noi abbiamo anche una specie di iscrizione che fa risalire questi affreschi proprio intorno ai primi decenni del Novecento ma Novecento inteso Novecento e basta non millen millenovecento ovviamente. Sono situati tutti sulle pareti dell'abside principale cioè dell'abside centrale. Gli affreschi non sono nelle navate che comunque abbiamo visto anche ce n'è una sola in buona sostanza di navata ma si trovano proprio dove c'è l'abside uno dei più importanti affreschi dell'alto medioevo nel Quattrocento viene ricoperto da intonaco scialbato e quindi diciamo che rimane poi per secoli e secoli nascosto. Non c'è il nome dell'artista è un anonimo. L'arte nel medioevo aveva come unico scopo quello di glorificare Dio non se stessi e quindi di questo artista non sappiamo il nome anche se è probabile che si tratti di un artista di origine orientale. La qualità di questi affreschi è piuttosto alta per il tempo. Dovete sapere infatti che a quell'epoca si dipingeva in un modo piuttosto schematico in un modo ieratico quindi seguendo se vogliamo anche la pittura bizantina con degli schemi piuttosto rigidi anche il corpo e gli atteggiamenti sono rappresentati in un modo schematico generalmente nell'arte dell'epoca. Qui invece vediamo intravediamo una sorta di umanità maggiore come dire un realismo un influsso dell'arte classica ma quella la grande arte classica greca e romana il realismo nella rappresentazione degli ambienti delle figure umane dei rapporti fra le figure umane e degli animali insomma è evidente che questa è una specie di come dire di testimonianza per questo alcuni hanno parlato di un tardo antico di testimonianza che è ancora molto della cultura classica molto della cultura antica anche se siamo secoli e secoli dopo la fine il crollo dell'impero romano di occidente di che cosa parlano questi affreschi parlano dell'infanzia di Gesù e parlano di Maria soprattutto nel registro superiore annunciazione visitazione prova delle acque amare sogno di Giuseppe è andata a Betlemme ecco qui potete vedere per esempio in alto a destra l'andata a Betlemme quindi attenzione non è la fuga in Egitto ma si tratta dello spostamento diciamo da Nazareth a Betlemme alla ricerca di un posto dove Maria poteva avrebbe potuto diciamo partorire il figlio poi abbiamo un registro chiamiamolo medio no inferiore rispetto a quello di cui vi ho parlato prima in cui c'è l'adorazione dei magi la natività con l'annuncio ai pastori la presentazione al tempio sulla controfacciata dell'arco trionfale due angeli in volo con in mano lo scettro e il globo adorano l'etimasia l'etimasia sarebbe il trono su cui poggiano croce e corona simboli della regalità di Dio ma che in attesa di Dio in attesa di Cristo risulta vuoto ancora questo trono sopra le finestre ci sono tre tondi integro quello centrale con l'icona di Cristo benedicente e questo anche lo potete vedere in questa slide il Cristo benedicente le scene narrative non sono disposte però secondo un filo cronologico cioè partendo dalla più remota fino alla più recente no c'è una totale libertà narrativa le immagini sono piuttosto concepite come si trattasse di un rotolo un rotolo di un codice miniato per esempio la struttura su due registri quadri separati da bande sottili sotto i registri uno zoccolo decorato a finte nicchie chiuse da velari da cui spuntano uccellini nel vano centrale privo di tenda è collocato un trono con sopra un libro chiuso ecco la cosa importante però da dire è che chi ha affrescato queste storie non ha utilizzato solamente i vangeli canonici Matteo Marco Luca e Giovanni no ha utilizzato anche i vangeli apocrifi gruppi di testi di carattere religioso che si riferiscono alla figura di Gesù ma che poi furono esclusi dal canone della Bibbia ad esempio il protovangelo di Giacomo è il vangelo dello pseudomatteo usati per illustrare con estrema completezza il dogma dell'incarnazione verità rifiutata dagli ariani presenti ancora in quel luogo e in quel momento storico all'inizio del novecento la chiesa quindi intende diffondere il cristianesimo nel suo messaggio essenziale in particolar modo concentrandosi sulla nascita di Cristo cercando di raccontare tutto quello che riguarda la nascita di Cristo persino quello che non è contenuto nei vangeli canonici ma quello che si trova solamente nei vangeli apocrifi noi personalmente ecco ricorderete anche le nostre dirette su Giotto noi personalmente quando leggiamo cose di questo tipo quando vediamo scene sentiamo anche parlare di vangeli apocrifi ricordiamo senz'altro la cappella degli scrovegni affrescata da Giotto anche in quella cappella degli scrovegni molte delle storie diciamo sono ispirate più ai vangeli apocrifi che non a quelli canonici la chiesa aveva la funzione di una cappella del conte Giovanni del Seprio figlio del conte di Milano Leone ah sì a proposito quando questo territorio passò ecco diciamo nelle mani di un comes cioè di un compagno comes comitis un compagno di Carlo Magno diventò contea da giudicaria che era il signore del luogo divenne un conte questa chiesa era visitata dall'elite militare e dal conte Giovanni l'intento ancora quello di combattere l'arianesimo per convincere i potenti della dottrina cristiana ortodossa la vittoria contro gli ariani si poteva raggiungere a partire dalla conversione di chi guida il popolo quindi da questa nobiltà guerriera abbiamo detto spiegato infatti che Castelseprio all'epoca era un luogo di potere era un luogo di controllo del territorio abbiamo detto quindi parlando prima del registro superiore che da destra a sinistra si possono ammirare anzitutto la scena dell'annunciazione e la scena della visitazione qui vediamo proprio queste due prime scene che vengono rappresentate una a fianco all'altra nel senso che prima a sinistra vediamo l'annunciazione Maria è qui al centro della scena presenta un'aureola particolare con tre linee di contorno con tre colori quindi giallo l'azzurro e il rosso che ricordano un po' il Cristo Pantocrator seduto raffigurato nell'abside spesso circondato da una forma a mandorla l'angelo ha un'aureola differente di colore azzurro chiaro che richiama il cielo l'angelo porta l'asta che lo caratterizza in quanto un messaggero sembra quasi planare sulla donna l'angelo è una figura statica scusate l'angelo è una figura dinamica è in movimento al contrario invece Maria è una figura statica che accoglie l'arrivo dell'angelo cercate di individuare di capire anche se questo affresco ci è giunto non in condizioni perfette la naturalezza dei gesti del movimento davanti a Maria non so se riuscite a intravederla c'è una brocca che appunto ci fa pensare ai Vangeli apocrifi infatti in uno di questi Vangeli si narra che Maria spaventata da un rumore si è uscita a prendere l'acqua e poi si è rientrata perché insomma non aveva capito che quel rumore lì era l'arrivo dell'angelo nei Vangeli apocrifi si racconta che Maria era una delle sette vergini del tempio ebraico in cui venivano mandate delle ragazze fino alla pubertà una volta raggiunta l'adolescenza non potevano più risiedere nel tempo e venivano mandate in custodia ad altri Maria viene mandata da Giuseppe che era molto più vecchio di lei non era quindi il suo futuro sposo come narrano invece i Vangeli canonici ma un vedovo con dei figli prima la vuole ricevere ma viene convinto dal sacerdote che gli intima una sciagura qualora non avesse seguito il volere di Dio un giorno il sacerdote sì perché lei era una vergine Maria e quindi non doveva essere accolta da un uomo anche oltretutto parecchio più attempato di lei il sacerdote in questi Vangeli apocrifi si dice richiamò le sette vergini dando loro il compito di filare ciascuna un telo di colori diversi per l'arca dell'alleanza Maria ha infatti in mano in questo affresco una croce ed un fuso sta filando un telo di colore porpora e non so se riuscite a intravedere il cesto con i gomitoli si tratta di una rappresentazione assolutamente insolita e unica dell'annunciazione il fuso è segno di regalità è simbolo di Cristo re dei giudei perché la porpora è colore dei re la croce invece è simbolo di Cristo come salvatore perché è lì sulla croce che ha salvato il mondo e l'uomo dal peccato le dita dell'angelo indicano che è in corso l'annuncio a Maria nel medioevo le dita a seconda della loro posizione indicano una tipologia di discorso sono le mani che parlano Maria ha un'espressione stupita come se non credesse a ciò che le viene annunciato si vuole enfatizzare la verità del fatto immedesimandosi in chi non aveva fede c'è un'ancella che assiste alla scena non so se riuscite ad intravederla lì sulla sinistra l'ancella si meraviglia si spaventa anche questa è un particolare che è presente nella narrazione dei Vangeli Apocrifi ulteriore prova che l'annunciazione è un fatto vero perché c'è una testimone oltre ai due personaggi fondamentali dell'annunciazione presenti in tutte le altre rappresentazioni dell'annunciazione allora l'affresco della visitazione si trova invece nella parte destra di questa slide per esempio quindi di questa fotografia ecco noi possiamo vedere benissimo Maria possiamo vedere che sta abbracciando Isabetta ma poi non riusciamo a vedere il volto di Isabetta perché non c'è non c'è pervenuto non ha superato insomma la prova del tempo sembra il consueto abbraccio tra le due donne tra le due donne molto legate osservando bene si nota la mano sinistra di Isabetta quindi quella che ha quel vestito marrone che tasta che tocca il ventre di Maria da sotto questo è un fatto anomalo per la concezione di pudore dell'epoca in cui è stato rappresentato e attesta ancora una volta il fatto che l'incarnazione di Cristo è una cosa vera come quando noi tocchiamo la pancia di una donna gravida ecco Elisabetta più o meno con questa mano non vediamo la faccia di Elisabetta ma vediamo questa sua mano che tasta il ventre di Maria si tratta quindi di un particolare questo di Elisabetta che tasta il ventre di Maria che serve per far medesimare lo spettatore e rendere ancora più veritiera la scena è arrivato il momento di vedere un altro affresco molto molto particolare e originale se non una sorta di unicum nella storia diciamo della nascita di Cristo che precede la nascita di Cristo cioè la prova delle acque amare infatti i Vangeli Apocrifi se non sbaglio proprio il protovangelo di Giacomo in modo particolare raccontano che il sacerdote che aveva allevato Maria nella sua infanzia una volta scoperto che lei era incinta ricordate che Maria era una delle sette vergini sospetta del rapporto con Giuseppe e quindi sottopone sia Giuseppe sia Maria a una prova avete in mente la famosa ordaria cioè quelle prove qui veniva sottoposto un imputato e che servivano proprio per verificare se questo imputato stava dicendo la verità oppure no si trattava di una prova di Dio per cui se un imputato per esempio non lo so passava attraverso i carboni ardenti il leso questa era la dimostrazione che lui era stato sincero se invece si bruciava era la dimostrazione che lui stava mentendo in epoca caro ninja quest'ordalia era il metodo per stabilire l'innocenza o l'impietà di un sospettato attraverso il superamento di una prova difficile spesso molto difficile a tal punto che spesso il suo fallimento portava anche alla morte qui il sacerdote fa bere prima a Giuseppe e poi a Maria dell'acqua mista a polvere del tempio quindi dell'acqua amara quindi dell'acqua tra virgolette tossica loro però rimangono vivi non hanno alcun effetto dal bere insomma quest'acqua prova della loro purezza garantita dal volere divino prova della verità del fatto non è frutto di un peccato quindi non c'è stato un peccato oserei dire né con Giuseppe né con altro uomo e la dimostrazione è il fatto che sia Giuseppe sia Maria riescono a superare questa prova dell'acqua non buona ecco da bere il sacerdote ha un laccio in testa su cui c'è un piccolo libro La Torah si chiama ovviamente si tratta del libro della legge la scelta dell'episodio del protovangelo è stata fatta proprio per dimostrare la cosa inconcepibile insomma cioè che Maria stia aspettando un bambino pur essendo vergine una vergine che concepisce vediamo adesso un altro affresco che è il sogno di Giuseppe un angelo va a visitare Giuseppe annunciandogli che Maria ha concepito per opera dello Spirito Santo l'angelo è raffigurato in pieno movimento come l'angelo dell'annunciazione assomiglia addirittura ad una nicia alata la famosa rappresentazione della vittoria alata greca che era molto frequente non solo nell'età classica greca ma anche in quella ellenistica notiamo le due dita alzate dell'angelo che indicano un discorso cioè che lui sta parlando Giuseppe è una massa solida ha nello stesso tempo però una posa naturale purtroppo come dire la raffigurazione di Giuseppe si presenta a noi non del tutto incontaminata perfetta non è riuscita a superare indenne la prova del tempo dicevamo prima però ecco soffermiamoci almeno sull'angelo e comunque anche sulla posa plastica di Giuseppe è arrivato il momento di parlare adesso del viaggio a Betlemme che non è la fuga dall'Egitto perché non viene rappresentato Gesù bambino abbiamo tre protagonisti però non solamente Maria con l'asino ma anche un terzo personaggio di cui in realtà si intravede solamente il polpaccio la gamba nell'estrema destra di questo di questa slide di questa raffigurazione a sinistra c'è Giuseppe ecco loro devono andare a Betlemme per registrarsi all'anagrafe c'era un censimento in corso Giuseppe è visibilmente anziano come raccontato nel protovangelo di Giovanni nel centro la Madonna ingroppa ad un asino trainato da chi? da questo giovane questo giovane chi è? ecco qui anche un'altra cosa che c'è solamente in questi Vangeli Apocrifi secondo uno di questi Vangeli Apocrifi infatti Giuseppe diventa accoglie Maria ma lui aveva avuto dei figli in un matrimonio precedente e quindi questi figli erano anche piuttosto grandi spiegato infatti che Giuseppe era in età avanzata e uno di questi figli è proprio quello che traina l'asino si può intravedere questo polpaccio piuttosto muscoloso giovanile la sua gamba ma ritorniamo adesso a Giuseppe a sinistra la mano di Giuseppe indica una specie di dialogo fra lui e Maria la particolare apertura delle dita si riferisce al fatto che i Vangeli raccontano che hanno parlato parlato per due volte dicono questi Vangeli apocrifi comunque Giuseppe l'ha interpellata per farsi spiegare gli opposti comportamenti della donna che sono conseguenze di due visioni che ha avuto prima triste vedendo coloro che non crederanno suo figlio poi felice vedendo sempre in visione quelli che crederanno che diventeranno i cristiani insomma che crederanno la venuta del figlio di Dio ne accoglieranno il messaggio di particolare rilevanza e anomalia è il paesaggio quindi lo sfondo con delle architetture e anche con un paesaggio più naturale ci sono quindi edifici dipinti con precisione architettonica segno della cultura probabilmente ecco di derivazione orientale dell'artista e poi la sua maestria dobbiamo notare la corporalità dei personaggi di questi affreschi è veramente unica a quel tempo passiamo adesso ad osservare quest'altro affresco che è un affresco moltipo potremmo dire dove ci sono insomma molte scene abbiamo infatti lo vedremo adesso una donna che è sulla estrema sinistra che si chiama Salome ma non è da confondere con la Salome insomma del re di Israele ma che è una levatrice e poi c'è Maria viene rappresentato sotto Maria il bimbo il bimbo Gesù che fa il bagno il bagnetto e poi ci sono c'è Giuseppe e ci sono i pastori al centro della scena comunque Maria distesa di una sorta di materasso viene ripresa e rappresentata qui la nascita di Gesù in un modo simile alla rappresentazione della nascita di Achille di un mosaico di qualche secolo prima di una casa privata a Bisanzio cioè si è notata una certa analogia fra la rappresentazione di questa nascita di Achille in questa casa di Bisanzio quindi di Costantinopoli e questa rappresentazione segno della provenienza orientale dell'artista di Castelseprio affiancata per la posizione del braccio sinistro che fa leva sul materasso ed è la mano destra invece appoggiata sul ventre notiamo quindi la naturalezza di questi gesti intorno alla figura centrale ci sono scene riguardanti la natività e personaggi che richiamano appunto la nascita che avveniva spesso con la presenza non solo delle levatrici ma anche delle ancelle la donna all'estrema sinistra dicevamo è una levatrice che si sostiene il braccio destro con la mano sinistra cosa dicono i Vangeli Apocrifi a questo proposito raccontano che la levatrice che aiutò Maria a partorire mentre stava attingendo dall'acqua del pozzo incontra Salome una seconda levatrice che non crede alla nascita di Dio in una donna mortale anche davanti a Maria vuole toccare con mano una sorta quindi di San Tommaso all'inizio della vita della vicenda umana di Cristo e non alla fine insomma per la sua mancanza di fede però succede che gli si paralizza il braccio destro e così e questo è il motivo per cui lei con la mano sinistra sostiene il braccio destro c'è quindi una punizione di Dio perché lei non ha creduto però c'è poi anche la misericordia che le fa riacquistare l'uso del braccio mentre aiuta le altre ancelle a lavare il bambino ovviamente tutto questo in questo Vangelo Apocrifo è rimasto solo il viso di Gesù bambino che si presenta bello gioviale furbetto dolce Giuseppe è a fianco invece del materasso ed è pensieroso guarda intorno a sé Giuseppe fa da tramite fra la scena dicevamo appunto della nascita quindi dove al centro abbiamo visto c'era Maria e la scena dell'arrivo dei pastori Giuseppe pensieroso si accorge della nascita per la sospensione del tempo infatti nei Vangeli Apocrifi si racconta di un arresto del tempo durante la nascita di Gesù dietro le rocce poi lì in alto a destra c'è un angelo con una verga in movimento col drappeggio e le ali la roccia divide le due scene narrative al di là di essa il greggio è pascolato da un pastore che si nasconde dietro il profilo della roccia vicino c'è il cane elemento tipico ovviamente anche del lavoro dei pastori andiamo a vedere adesso la presentazione al tempio Simeone ecco quindi questo grande vecchio sacerdote viene rappresentato ovviamente estremamente vecchio perché rappresenta proprio simbolicamente l'attesa millenaria del popolo ebraico della venuta del Signore che trova risposta finalmente ma dopo tanti tanti secoli l'atteggiamento di Maria che presenta quindi Gesù al tempio e del bambino stesso che porta in braccio è quello di protendersi simbolo del movimento di Dio verso l'uomo del suo venirgli incontro dimostrarsi in un rapporto con lui Dio diventando uomo incontra l'uomo si lascia toccare da lui si lascia toccare da Simeone anche qui come nell'annunciazione ci sono due testimoni della scena una a destra che tiene le braccia concerte probabilmente Anna e una a sinistra una figura maschile come si deduce dal pizzetto la scena viene svolta in uno spazio definito una sorta di conchiglia rappresentata come una specie di scorcio architettonico si intravedono infatti anche altre stanze del tempio osserviamo adesso invece la rappresentazione della presentazione ai re magi al centro della scena è il bambino che insieme alla madre si protende verso i magi come con Simeone Gesù viene raffigurato con un'aureola greca che presenta al suo interno la croce c'è sempre l'angelo come elemento dinamico della scena come abbiamo già visto in altri due affreschi quello dell'annunciazione e quello del sogno di Giuseppe i re magi sono vestiti secondo il costume persiano segno della provenienza orientale dell'artista Giuseppe alla destra di Maria è seduto in un atteggiamento pensoso distaccato e meditabondo l'ultimo affresco di cui parleremo oggi è quello del Cristo benedicente in posizione frontale rigida con uno sguardo ieratico è chiaro quindi che a differenza dell'intento narrativo prevalente nelle scene della vita di Maria insomma e della nascita insomma di Gesù di cui abbiamo parlato fino adesso qui c'è invece un intento celebrativo una raffigurazione fuori dal tempo e dallo spazio è l'unica espressione tra quelle che questo artista ha affrescato che non ha né espressione né movimento dalla tipologia della aureola quella famosa aureola greca di cui abbiamo imparato anche prima il cosiddetto nimbo dove si intravede anche una croce e dal taglio del volto si pensa ci sia un parallelismo con la sindone o con il velo della veronica altra prova della provenienza orientale dell'artista questo cristo pantocrator è visibile da tutta la navata o aula maggiore della chiesa il cristo pantocrator tiene in mano il globo che rappresenta il mondo ed è portatore del verbo tiene nella mano sinistra infatti un rotolo di pergamena a lato ci sono degli angeli uno con la verga del messaggero e uno con in mano il globo il nostro amico Faktotumi infatti dice sembra che questa arte l'arte di questo artista anonimo che ha affrescato questa abside centrale della chiesa di Santa Maria Foris Portas sia una sorta di via di mezzo fra ellenismo e giudaismo ci sono elementi quindi dell'arte ellenica dell'arte classica dell'arte greca questi angeli che sembrano una niche per esempio ed elementi invece più tipicamente giudaici ecco pensiamo per esempio alla presentazione al tempio eccetera bene c'è da dire un'ultima cosa per terminare il nostro incontro che se vi capita di fare questa gita a Castelseprio non dimenticate anche di andare a visitare il monastero di Torba il monastero di Torba faceva parte del grande complesso di Castelseprio ed era nella sua parte più bassa quindi verso il fiume Olona ecco il monastero di Torba è stato affidato preso insomma da un po' di anni dal FAI FAI molto bene se vai a vedere i luoghi FAI scusate il gioco di parola però vi assicuro che è veramente molto bello visitare questi luoghi anche perché ci sono sempre delle guide molto molto preparate che ci fanno vedere un po' la storia ad esempio di questo monastero e anche lì ci sono degli affreschi abbastanza interessanti ovviamente se vi capita di avere un po' più di tempo andate dall'altra parte dell'Olona e andate a visitare la collegiata di Castiglione Olona un esempio di arte toscana oserei dire in piena Lombardia